Come CSI Fano vogliamo donare alla città nell'ambito della ricorrenza dei 75 anni di vita del nostro comitato un momento divulgativo e di riflessione rispetto appunto al tema del dono partendo dallo sport quindi gli sportivi come soggetti in salute, sportivi soggetti in salute che possono quindi condividere con gli altri tutto il buono che viene appunto dalla loro salute in pratica il sangue ma anche gli organi ma anche il midollo osseo infatti saranno con noi Avis, Aido e Admo e tutto questo lo diciamo incentreremo con la presentazione del libro Chiamatemi ancora Anza scritto da Sara Anzanello pallavolista campionessa del mondo italiana purtroppo deceduta un anno fa a seguito di un linfoma ma che era stata precedentemente trapiantata di fegato a seguito di un'epatite quindi lei che ha vissuto una sua seconda vita non solo civile diciamo ma anche sportiva perché poi dopo il trapianto era anche tornata a giocare è stata una straordinaria testimonial di questa filosofia tant'è che era diventata anche testimonial nazionale dell'Aido e quindi ci sembrava giusto riflettere fermarci un attimo come centro sportivo italiano poiché siamo un ente di promozione sportiva che però ha come mission quello di educare attraverso lo sport e quindi donare alla città appunto un momento non solo ludico come facciamo durante tutto l'anno ma anche un momento di riflessione quindi l'appuntamento per tutti è venerdì pomeriggio alle ore 18 presso Palazzo Martinozzi per questa presentazione per cui siete tutti invitati grazie a tutti grazie a tutti